Il mondo è il nostro palcoscenico e noi siamo lo spettacolo Blu-ray per rendere ogni cosa bellissima giochi che ti portano in una dimensione sconosciuta un processore più veloce per stare sempre un passo avanti questo è il divertimento come non l'hai mai provato prima PlayStation 3 PlayStation 3 PlayStation 3